Sono Maurizio Capri, sono un consigliere comunale uscente, ho deciso di ricandidarmi al Comune dell'Aquila per dare continuità a un'esperienza amministrativa che è stata sotto alcuni profili molto entusiasmanti e sotto altri profili anche drammatica. Quindi ho deciso di dare continuità a questa cosa, un impegno sociale, civico che mi sento di dover dare, mi sento ancora di mettermi a disposizione per la mia città e mi candido con Massimo Cialende, che ritengo sia la persona giusta per governare questo processo, ha governato il processo post-sisma in modo, a mio avviso, eccellente, ovviamente con tutti i problemi e le situazioni che ha dovuto affrontare e credo che lui oggi abbia, oltre alla capacità, anche la conoscenza delle situazioni, delle questioni, di come sono articolate tutte le questioni legate al terremoto e quindi credo che sia la persona giusta per poter governare nei prossimi cinque anni la nostra città.